Nel 2011, centenario dell'impresa coloniale italiana in Libia alla ricerca della quarta sponda, la Libia si libera dalla dittatura di Gheddafi e volta pagina nella sua storia. Tra Italia e Libia si tornano a tessere rapporti diplomatici e culturali. L'Università La Sapienza conferma la sua attenzione alla questione e ha voluto organizzare una tavola rotonda dedicata alle relazioni italo-libiche tra storie e prospettive di collaborazione nella macro-regione del Mediterraneo. Prende le mosse da un rapporto che l'Università, proprio la Sapienza, ha sempre avuto con alcune università libiche negli ultimi 30 anni, potremmo dire. Anzi, forse anche prima di Gheddafi, quindi qualcosa di più. Poi ovviamente le vicende che hanno caratterizzato questi ultimi anni hanno acceso l'interesse. Noi abbiamo fatto un volume che si intitola C'era una volta la Libia, quindi che è una riflessione interna nostra su questo problema. Ecco, in questa situazione particolare della Libia, dopo l'indipendenza, come si sono evoluti i rapporti tra quel paese e il nostro, che sono così vicini? Noi abbiamo avuto anche richieste da parte, soprattutto sul piano dei giuristi, l'Università di Benghazi, c'era di rimandare, come dire, di poter collaborare con noi proprio per la conoscenza del diritto e perché probabilmente alcune riforme di carattere nel diritto penale, nel diritto civile, nel diritto commerciale si imporranno al sistema libico rispetto al passato e quindi come abbiamo fatto però con altri paesi. Abbiamo interessi assolutamente comuni. La Libia ha fonti energetiche, le quali possono andare a lungo termine, ma possono anche un giorno si esoriranno. L'Italia ha ovviamente il deserto, che è ugualmente sfruttabile dal punto di vista del sole e di quant'altro basino, e l'Italia ha scienza, cultura e tecnologia che può essere messa insieme con la Libia proprio per una joint venture che è l'unico modo poi per fare sviluppo e pace. Nel corso dell'incontro sono state affrontate le dinamiche legate alla formazione della Libia come soggetto politico unitario, che dopo l'indipendenza sta vivendo una fase di normalizzazione e di ricollocazione nel quadro dei rapporti internazionali. Nella macroregione del Mediterraneo, Tripoli torna ad avere un ruolo strategico. Io credo che sia un punto di assoluta necessità quello di far sì che le relazioni tra la Libia e l'Italia siano riprese in maniera significativa. Credo che questo debba derivare dal fatto che il Mediterraneo sta riassumendo una centralità nel sistema economico mondiale grazie all'enorme quantità di flussi commerciali, di prodotti ma anche di capitali, di persone che passano idealmente attraverso Suez da un Oriente sempre più sviluppato. Tripoli ha una centralità in questo macrosistema? Tripoli al momento non l'ha, se non per certi flussi di tipo energetico, ma potrebbe averli. Tripoli è al centro di un piccolo sistema, perché si tratta di un modesto sistema in termini quantitativi, solo 5 milioni di abitanti, quindi un potenziale di consumo e di mercato relativo e però può essere il legame con l'Africa centrale nel suo insieme. Roma ha dato il via a una serie di iniziative volte a rinsaldare i legami artistici e culturali con la Libia e la tavola rotonda ha preso le mosse anche dalla mostra dello scultore libico Ali Wakwak, anime di materia, in esposizione al Vittoriano fino al 28 febbraio. Io penso che la chiave di tutto sia veramente anche la parola semplicità, perché l'artista Ali è riuscito con una grandissima semplicità a formulare proprio una ricetta della trasformazione, però avendo appunto nel DNA questo know-how, questa capacità artistica molto forte.